Senti, stanno per iniziare una folia omicida qua. Stannotte faranno aforio un certo Tobias e le guardie prendono già scommesse su chi sarà il prossimo e c'è anche il mio nome su quella lista. Ho solo più due possibilità, la Commissione di Grazia e la Corte Federale. Ho scritto una mozione, però mi serve qualcuno per presentarla. Lei mi può aiutare? Tu sei capace a scrivere un'emozione? Quando hai le spalle al muro impari la legge molto in fretta. Levo un interesse personale. Sono rinchiuso qui dentro da sei anni e ho detto tutti i libri di diritto che mi sono capitati. Questa è la mia documentazione completa. Ci sono le trascrizioni dei processi e documenti legali vari. Tutta roba che la puoi aiutare a capire al meglio il mio caso. Faccio una telefonata e mi trovo in avvocato. Così posso presentare il ricorso. E non tornare a più qua, vero?